Ciao, sono Charlie, sono molto felice di essere qui oggi. È il mio primo Pride in quanto persona non binary out, quindi è molto importante essere qui per me, indossare i vestiti che indosso, perché qualche anno fa non sarei mai riuscito a farlo. Un posto come questo, una celebrazione come questa, per noi che ci sentiamo oppressi ogni giorno, è fondamentale per riuscire a essere noi stessi almeno un giorno nella nostra vita, ed è questo. TikTok mi ha aiutato tanto a trovare la mia voce, e dove ho iniziato, soprattutto nel 2018, a mettere contenuti LGBT, contenuti che parlavano della mia storia, dove mi sentivo più al sicuro a farlo e dove ho trovato una grandissima community pronta ad accogliermi.